Trasferire la competenza della SR 426 dalla provincia all'ANAS. La richiesta avanzata nell'ottobre 2018 con delibera di Consiglio Comunale di Sant'Arsenio viene oggi supportata nel testo anche dalla condivisa delibera del Consiglio Comunale di Polla che nei giorni scorsi ha approvato con voti unanimi la proposta di indirizzo presentata dal sindaco Massimo Loviso. La pericolosità dell'arteria con le continue richieste di effettuazione di lavori di messa in sicurezza torna quindi ad essere oggetto di attenzione da parte delle amministrazioni comunali interessate dall'attraversamento della strada che in passato è stata spesso teatro di incidenti stradali anche mortali. Già nel 2018 l'amministrazione comunale santarsenese aveva emesso una delibera finalizzata a richiedere il passaggio di competenza sull'arteria al fine di poter anche ricevere maggiori garanzie sulla sua manutenzione all'ANAS anziché alla provincia di Salerno che a seguito anche della riforma del Rio è stata svuotata delle possibilità di gestire fondi propri ma non della competenza sulle arterie. Una proposta che è stata ora accettata dal Comune di Polla il cui Consiglio Comunale nella seduta del 18 novembre scorso ha anche approvato l'intenzione di inostrare, si legge sul documento, formare istanza e fare i voti all'amministrazione provinciale di Salerno e alla regione Campania ciascuna per quanto di competenza per la definizione del trasferimento all'ANAS della competenza sulla ex SS 426 e per l'avvio di interventi urgenti di manutenzione sulle SP 11 ed SP 39. Delibera che a breve potrebbe essere ulteriormente supportata anche dal Comune di San Pietro Altanagro. Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Pagliarulo ha infatti intenzione di inserire l'argomento all'ordine del giorno in occasione del prossimo Consiglio Comunale programmato presumibilmente nei prossimi giorni. Il Comune di San Pietro Altanagro aveva già manifestato l'intenzione di supportare Sant'Arsenio e Polla nelle azioni finalizzate al miglioramento della viabilità sull'arteria, tanto che già nel maggio del 2018, con delibera di giunta comunale, aveva approvato lo schema di accordo e collaborazione con gli altri enti comunali, nonché con la provincia di Salerno, al fine di migliorare l'efficienza funzionale e della messa in sicurezza dell'ex SR 426.